Le sanzioni funzionano, bisogna capire questo. La propaganda russa ha cercato di dimostrare che non funziona, non è vero. Alcune sanzioni non funzionano, altre funzionano poco, alcune funzionano moltissimo. Quindi, prima cosa, le sanzioni funzionano, altrimenti non si spiegherebbero neanche certi comportamenti recenti del Presidente Putin e quindi bisogna continuare su quel fronte. Questa è la linea politica che il Governo ha seguito e bisogna continuare sul fronte di sostegno all'Ucraina fino a che non vinca la guerra di liberazione, perché questa è una guerra di liberazione da chi ha invaso il suo Paese. Quindi, su questi punti, io ritengo che debba essere questa la linea del Governo, è stata la linea del mio Governo. Non posso anticipare quale sarà, però all'interno del centro-destra ci sono tanti punti di vista, insomma. Lei non mi vuol far dire che quello di Salvini prevale su quello degli altri della Meloni, di Berlusconi, non lo posso dire questo, insomma. Quindi, come? È una visione che il Governo attuale non condivide, insomma. che sono dovuta andare a fare?"